Buonasera a tutti gli amici di Android Blogger. Siamo all'evento di presentazione della nuova linea di prodotti Galaxy Tab 3 e vi presentiamo il nuovissimo Galaxy Tab 3 a 7 pollici. La risoluzione del display è da 1024x600 con 169 Gpi. Ovviamente il display è full touch. Il sistema operativo è Android 4.1 Jelly Bean. Lo spessore del prodotto è 9.9 mm per 300 grammi. Una tecnologia di processore dual core da 1.2 GHz. RAM 1 GB, memoria interna 8 GB e espandibile tramite microSD fino a 32 GB come standard su tutti i prodotti Samsung. Per quanto riguarda la fotocamera ne abbiamo una posteriore da 3.2 megapixel e una frontale da 1.3 megapixel. La batteria del prodotto è da 4000 mAh e troveremo sul mercato a partire da settembre 2013 due versioni. Una versione solo Wi-Fi e una versione Wi-Fi più 3G. Grazie. Grazie.